Lottare contro la tentazione di scendere dalla croce, la più terribile, la prima e l'ultima dell'Evangelo. E' l'invito rivolto ieri dal Papa nella messa di chiusura del Giubileo, concelebrata con i nuovi cardinali di fronte a una folla di ben centomila persone in piazza San Pietro. Quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro, a ritornare all'essenziale, ha proseguito il Pontefice. Questo tempo di misericordia ci chiama a guardare al vero volto del nostro Re, quello che risplende nella Pasqua e a riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è accogliente, libera, fedele, povera nei mezzi e ricca nell'amore, missionaria. La misericordia portandoci al cuore del Vangelo ci esorta anche a rinunciare ad abitudini e consuetudini che possono ostacolare il servizio al Regno di Dio, a trovare il nostro orientamento solo nella perenne e umile regalità di Gesù, non nell'adeguamento alle precarie regalità e ai mutevoli poteri di ogni epoca, ha monito Francesco. Chiediamo anche noi il dono di questa memoria aperta e viva, l'invito al termine dell'anno santo straordinario della misericordia. Chiediamo la grazia di non chiudere mai le porte della riconciliazione e del perdono, ma di saper andare oltre il male e le divergenze, aprendo ogni possibile via di speranza. Come Dio crede in noi stessi, infinitamente al di là dei nostri meriti, così anche noi siamo chiamati a infondere speranza e a dare opportunità agli altri. Perché anche se si chiude la porta santa rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia che è il cuore di Cristo. Dal costato squarciato del risorto scaturiscono fino alla fine dei tempi la misericordia, la consolazione e la speranza. Tanti pellegrini hanno varcato le porte sante e fuori del fragore delle crona che hanno gustato la grande bontà del Signore, il bilancio del Papa. Ringraziamo per questo e ricordiamoci che siamo stati investiti di misericordia per rivestirci di sentimenti di misericordia, per diventare noi pure strumenti di misericordia. Proseguiamo questo nostro cammino insieme a concluso. Ascoltiamo allora il suo messaggio nel servizio. Cari fratelli e sorelle, al termine di questa celebrazione innalziamo a Dio la lode e il ringraziamento per il dono che l'anno santo della misericordia è stato per la Chiesa e per tante persone di buona volontà. Saluto con deferenza il Presidente della Repubblica Italiana e le delegazioni ufficiali presenti. Esprimo viva riconoscenza ai responsabili del Governo italiano e alle altre istituzioni per la collaborazione e l'impegno profuso. Un grazie caloroso alle forze dell'ordine, agli operatori dei servizi di accoglienza, di informazione, sanitari e ai volontari di ogni età e provenienza. Ringrazio in modo particolare il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, il suo Presidente e coloro che hanno cooperato nelle diverse sue articolazioni. Un grato ricordo rivolgo a quanti hanno contribuito spiritualmente alla riuscita del Giubileo. Penso a tante persone anziane e malatte che hanno incessantemente pregato, offrendo anche le loro sofferenze per il Giubileo. In modo speciale vorrei ringraziare le monache di clausura alla vigilia della giornata per l'Orantibus che si celebrerà domani. Invito tutti ad avere un particolare ricordo per queste nostre sorelle che si dedicano totalmente alla preghiera e hanno bisogno di solidarietà spirituale e materiale. Ieri da Vignon, in Francia, è stato proclamato Beato il Padre Maria Eugenio del Bambino Gesù dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi, fondatore dell'Istituto Secolare Nostra Signora della Vita. Uomo di Dio, attento ai bisogni spirituali e materiali del prossimo. Il suo esempio e la sua intercessione sostengano il nostro cammino di fede. E desidero salutare scordialmente tutti voi che da vari paesi siete venuti per la chiusura della Porta Santa della Basilica del San Pietro. La Vergine Maria ci aiuti tutti a conservare nel cuore e a far fruttificare i doni spirituali del Giubileo della Misericordia.